Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va innanzitutto? Come andiamo in questi giorni? Mi auguro che appunto stiate a posto, che vadano appunto che le vostre giornate passino in maniera normale ragazzi, perché qui c'è tutto fuorché la diciamo la semplicità in questo video, perché questo video qui parla di un'indiscrezione che è arrivata giustamente alle orecchie di molti addetti ai lavori e che oggi vi propongo all'interno di questo video. Partiamo da un presupposto molto semplice, il tema principale, l'avete già visto, è Gabriel Jesus. Voi sapete che Gabriel Jesus è un giocatore sicuramente molto stimato dalla società bianconera, è un nome importante per quello che è il futuro della Juve, perché comunque ragazzi, volete o non volete, i nomi davanti sono quelli, nel senso sono quei 3-4 nomi che girano e di Gabriel Jesus su questo canale è stata detta tanta roba, nel senso abbiamo parlato tanto di Gabriel Jesus, ho espresso la mia ammirazione per lui come talento, ho espresso però le mie perplessità per lui per quanto riguarda la posizione in campo, lo stile di gioco eccetera eccetera. Quelle comunque sono cose che non c'entrano nulla con il video di oggi e che dobbiamo andare a mettere un pochino da parte per il momento, perché si lavora tanto in smart working, si lavora da casa, si lavora come appunto si può, quindi tramite i dispositivi elettronici, ci si incontra, si fanno riunioni, telefonate con gli agenti ovviamente sempre in maniera diretta ma comunque distante e una delle cose che negli ultimi giorni è saltata fuori è stata la proposta di uno dei membri dello staff tecnico del Manchester City che ha detto Gabriel Jesus sarebbe molto importante per noi, saremmo disposti a cederlo solamente se la Juve dovesse inserire all'interno dell'affare un giocatore a nostra scelta. Vi ricorderete che la Juventus aveva fatto la proposta di scambiare Douglas Costa con Gabriel Jesus, una proposta che io vi ho presentato ragazzi due, tre mesi fa, tanto ci sono i video come prova di quello che dico, era una voce che poi si è trasformata nell'offerta della Juventus, nella proposta della Juventus che ha preso Douglas Costa e ha detto io per Douglas Costa non voglio assolutamente diciamo investire più altro tempo, voglio andare a prendermi Gabriel Jesus, vi va se facciamo questo scambio. Il City a questo scambio ha risposto ok, ma comunque ci vuole un conguaglio economico pesante, che è un conguaglio economico tra i 50 e i 70 milioni, perché l'oro da Douglas Costa non lo valutano quanto la Juventus valuta il brasiliano. Allora è stato fatto un altro nome e quel nome è il nome di Mary De Miral. Il City è molto interessato a De Miral, De Miral è uno dei giocatori che lo staff tecnico del City sta osservando, lo ritengono un giocatore pronto per il Manchester City, nonostante l'infortunio di De Miral loro non sarebbero affatto diciamo scontenti di investire dei soldi su di lui o comunque offrirgli una posizione di rilievo, anche perché il City è alla ricerca di un difensore con delle caratteristiche abbastanza specifiche. La prima caratteristica è la forza, la seconda caratteristica è la giovinezza, la terza caratteristica è la capacità di diciamo riuscire a non andare ad incorrere in difficoltà risalenti al livello di gioco, nel senso ci si aspettava che De Miral passando dal Sassuolo alla Juventus facesse un po' un casino, abbiamo detto oddio forse non si ambienterà subito invece le difficoltà di ambientamento praticamente di De Miral non ci sono praticamente state, cioè De Miral si è ambientato subito nel contesto della Juventus quindi il City crede che qualora la Juventus dovesse accettare un affare del genere De Miral possa ambientarsi bene anche al City. La Juventus ha risposto no, assolutamente non se ne parla e voglio rivolgermi a tutti i coloro che mi scrivono e a tutti coloro che mi dicono Matt, Gabriel Jesus va preso a tutti i costi ragazzi io sono molto diretto, nel senso ho un grande difetto nel mio carattere e uno dei miei più grandi difetti è il fatto che purtroppo parlo in faccia, nel senso dico le cose anche in maniera alcune volte sbagliata, me ne rendo conto, però non riesco a trattenermi quando c'è da dire qualcosa diciamo che penso, cioè non posso andare a mascherarvi delle cose e a dirvi delle bugie perché altrimenti io verrei qui solamente per prendervi in giro e non mi va di venire qui e prendere in giro le persone che mi seguono perché altrimenti non so cosa io stia facendo qui esattamente io sto qui per offrirvi comunque un intrattenimento, per offrirvi una riflessione eccetera eccetera Gabriel Jesus a me piace, è un buon giocatore, non lo considero per ora il mio preferito fra quelli attualmente diciamo nella lista della Juve se dovesse arrivare non ho niente in contrario al suo arrivo trovo però che lui potrebbe trovare più degli altri, quindi più di Icardi, più di Henry Kane, più di Holland difficoltà all'interno del contesto Juventus e trovo che l'offerta del City, questa proposta mediante la quale il City chiede De Miral la Juve deve mettere De Miral sia assolutamente una proposta assolutamente sbagliata cioè della serie proprio da gettarsi proprio fuori dalla finestra e su un treno in corsa è una cosa che non si farà mai perché De Miral per la Juve è incedibile quindi per il momento De Miral per la Juve è incedibile poi ci può essere l'offerta che ti fa tentennare e ne parleremo perché c'è un video pronto su De Miral perché c'è anche un'altra squadra che è andata su De Miral a gamba tesa perché c'è anche qualcun altro che ha sollevato il telefono e ha detto pronto? ma c'è date De Miral? No, la Juventus ha già messo le cose in chiaro De Miral non si muove da Torino però in quel video prima che la Juventus comunque mettesse le cose in chiaro non si sapeva bene la posizione della Juventus e quindi in quel video mi vedrete appunto dire la mia opinione a proposito dell'affare di quell'affare lì per quanto riguarda questo affare lì con tutto il rispetto possibile e immaginabile finché si parla di scambiare Gabriel Jesus con Douglas Costa è un discorso finché si parla di scambiare Gabriel Jesus con De Miral è un altro ma non perché De Miral è mio parente, ci mancherebbe altro ma perché trovo che De Miral sia uno veramente dei pochissimi incedibili all'interno della Juve cioè se io fossi in paradici non cederei De Miral perché lo ritengo uno dei migliori giocatori che attualmente in prospettiva la Juventus ha quindi è vero che andremo a prendere un giocatore come Gabriel Jesus che sicuramente ha tante qualità eccetera eccetera però ragazzi posso dirvi una cosa con tutta l'onestà del mondo voi collegate l'idea di Gabriel Jesus brevilinio, bravo con i piedi al gioco ipotetico che Sarri dovrebbe fare che non si vede manco veramente neanche con il canocchiale riesce a vederne uno scorcio di quel gioco ed è sbagliato perché Gabriel Jesus è un giocatore comunque che in una squadra come la Juventus troverebbe molte difficoltà cioè stiamo parlando della riserva del City è vero che davanti a Aguero è vero che davanti a un giocatore come Aguero che Aguero è un giocatore che sta segnando top però Aguero ha anche 30 anni voglio dire sta anche calando a livello di prestazione se Gabriel Jesus continua a rimanere come riserva e Guardiola non lo fa giocar titolare ci sarà un motivo oppure Guardiola è scemo? cioè ve la siete fatta questa domanda a me non va di sacrificare Demiral per arrivare a Gabriel Jesus non mi va semplicemente perché trovo che Demiral sia un giocatore completamente in prospettiva straordinario trovo che possa essere in breve tempo fra i primi 10 al mondo nel suo ruolo, forse anche i primi 5 e non mi va di dire raga cediamo Demiral e andiamoci a prendere Gabriel Jesus anche perché ti rimane il problema Douglas Costa cioè anche qui Douglas Costa molte persone Matt ma Douglas Costa bisogna tenerlo io non so perché tu dici sempre che bisogna cedere Douglas Costa ragazzi ma come faccio a dire il contrario? mi spiegate come faccio io a valutare le prestazioni di un giocatore che purtroppo gioca 10 partiti all'anno ma Douglas Costa magari se Douglas Costa avessi avuto la continuità fisica di giocare quelle 20-30 partite all'anno senza farsi male io avrei detto raga teniamocelo cioè tranquillamente dice sai teniamocelo arrivederci ma un giocatore che ti gioca 10 partiti all'anno e si fa male e poi non va bene e poi litiga e poi non va e poi capita la partita in cui comincia a fare skills senza caso ragazzi ci vogliamo rendere conto che dobbiamo badare un po' più alla sostanza e un po' meno alla forma a me che Douglas Costa ha 95 di velocità su FIFA e fa le accelerazioni che si traina tutta la squadra dietro non mi interessa nulla perché a me interessa se quel giocatore lo posso usare cioè avere un giocatore straordinario e poterlo usare 10 partite all'anno cioè alla fine del discorso è un discorso nullo quindi andando a prendere Gabriel Jesus con Douglas Costa è un discorso che alla fine diciamo si squadra perché comunque il City cerca una riserva sulla destra e avrebbe Costa e andrebbe in un campionato anche diverso insomma e la Juve si libera di 6-7 milioni di euro di ingaggio prende Gabriel Jesus che ne guadagna 5,5 quindi risparmia e comunque prende una punta ma nello scambio De Miral e Gabriel Jesus non ci sono possibilità che questo esista nel senso che per quanto mi riguarda ragazzi De Miral è insedibile poi se c'è qualcuno fra voi che può e che mi vuol dire Matt ma io voglio dar De Miral e voglio prendere Gabriel io accetto l'opinione nel senso questo è un paese libero ci mancherebbe altro non è che non è che se voi mi dite Matt io mi sento in grado di sopravviare anche senza De Miral perché De Miral per me è un giocatore sopravvalutato lo voglio scambiare con Douglas Costa non è che vi dico non ci avete torto vi dico ok fate quello che volete se posso dire secondo la mia esperienza e secondo la mia competenza scambiare De Miral con Gabriel Jesus è un'enorme maccata è una cazzata è una situazione veramente orribile proprio mentalmente un'idea trash cioè da prendere gettare nel cestino dar fuoco al cestino schiacciarlo rendere il cestino una frittata e gettarlo fuori dalla finestra fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi cioè sareste disposti a scambiare De Miral per un giocatore come Gabriel Jesus oppure preferireste andare altrove diciamo fatemi sapere ragazzi voglio sapere la vostra opinione perché è un argomento di cui mi scrivete tutti tutti quanti Matt ma arriva Gabriel Jesus Matt ma Gabriel Jesus quando arriva Matt ma perché non è ancora arrivato Gabriel Jesus siccome è un argomento importante vi do la palla cioè vi passo il testimonio la patata bollente fate un po' voi secondo voi è un affare giusto oppure la Juventus deve dire aspetta andiamo a scambiare non De Miral ma un Douglas Costa oppure un altro giocatore che so faccio un nome a caso che non interessa al City lo faccio Bernardeschi che non interessa al City fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi ciao